Sì, sì. Non sta succedendo niente. Mi sto sopra la testa. Ma io l'ho assoluto abbassata. Niente. Niente. Ma guarda, guarda. È il giorno, eh? Cosa avevo detto io, regà? È meraviglia, no? È meraviglia, no? È meraviglia. È meraviglia. No. Guarda, c'è proprio conelli che parla. È fantastico. Vuole stare lì, vuole ciò. Signora, io sono. No, non ci sono. È un saluto. Non ci sono. Non ci sono. Sì. Non ci sono. Stanno tutti qua. Grazie a tutti. Grazie a tutti.